Un ragazzino che è partito da un piccolo paese e raggiunge il tuo successo, qual è il segreto? Cosa bisogna fare? Ma non lo so, perché sinceramente se appena sono cresciuto nel mio paesino mi avessero detto che avrei vinto la Coppa del Mondo, mi avrebbero dato del matto. Quindi la cosa bella del calcio, o dello sport in generale, o della vita in generale, penso che sia quello, non c'è niente di programmato. L'importante è farlo del sport, secondo me, perché ti fa bene viverlo in maniera positiva, soprattutto da oggi, il giorno d'oggi, con tutta questa tecnologia che c'è, l'unica cosa che posso dire a un giovane è fare sport, perché oggi si sta più davanti a una Playstation o a un telefonino, piuttosto di andare a giocare con i propri amici, perché fai anche più gruppo, tra virgolette, conosci persone, giocare all'aria aperta. Come quando lo facevo io, sarebbe bello che anche adesso la gioventù tornasse un po' i miei tempi e dovrebbero cercare di stare un po' più insieme e godersela facendo sport all'aperto. Un'ultima domanda, tu hai giocato anche in Germania, al Bayern, una squadra importantissima, la differenza tra una squadra tedesca e quelle italiane? Più o meno cambia poco, diciamo che cambia, che secondo me adesso il calcio tedesco è un po' più avanti perché hanno le strutture molto più moderne rispetto alle nostre, cioè in Germania non c'è un brutto stadio. Purtroppo da noi abbiamo ancora gli stadi di una volta, i migliori sono quelli di Italia 90, quindi si parla già comunque di vent'anni fa, quindi sarebbe bello come in Germania uno stadio bello, con negozi, con i bambini che possono andare senza nessun problema, invece di un problema in Italia, di un daspo, di tornelli, non tornelli, di stadi vuoti o stadi veramente che sono molto molto vecchi, quindi sarebbe bello una bella riforma strutturale proprio di tutti gli stadi per far tornare le famiglie allo stadio.